del fatto, Raimato e Gabriella Dodero che presenterà il lavoro. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Allora, qual è l'iconcina per view? Slide show? Ok. Dunque, vi parlerò di un'esperienza di un MOOC che è stata offerta presso la Libera Università di Bozzano nell'ambito di un concorso che ha lanciato due anni fa al Ministero che si chiama Talent Italy e che per quello che ne so non si è ancora concluso. L'esperienza si è svolta sostanzialmente questa primavera e ne parlerò anche domani pomeriggio ma da un punto di vista leggermente diverso. Come potete immaginare, dietro a un MOOC ci sono molte, molte prospettive differenti e mi fa piacere che dentro le mem ci sia spazio per due di queste. In particolare, quella di oggi dovrebbe essere quella, a mio avviso, più tecnologica nonostante il titolo che potrebbe anche far pensare a un divertimento. Siccome non voglio inventarmi la ruota, vi dirò adesso una delle mie citazioni preferite e poi vi faccio un quiz. Cioè, l'autore è il celeberrimo, lo conoscete sicuramente tutti. Vediamo se riconoscete la citazione. Il nostro obiettivo era duplice, insegnare e divertire. E diciamo soprattutto insegnare, perché per noi il divertimento non è stato altro che la maschera dell'apprendimento. Allora, chi era? Se lo indovinate, venite a Bozzano, vi ho affrontato una fetta di strudel con la vaniglia. Vi ho motivato abbastanza? L'avete riconosciuto? Cosa? Più vecchio. Vi ho dato un aiutino. Più vecchio. Il secolo precedente. Vi posso anche dire l'anno 1857. Allora, dicendo questo, vi ho dato un aiutino, tolgo la vaniglia. È dallo strudel. No, 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 no. No, non ero un matematico. Vi do un ulteriore aiutino, però la fetta di strudel si riduce di spessore. La citazione in lingua originale sarebbe in francese. Niente. Mi dovete voi uno strudel. E ve lo dico. Alexandre Dumas, padre. Quello dei tre moschettieri. Lui voleva insegnare la storia di Francia. Onestamente. Questa citazione si trova in una delle sue opere minori. Non è famosa come i tre moschettieri, però a me piace. Anche i tre moschettieri mi sono piaciuti. Ok, andiamo avanti e cerchiamo di fare le persone serie. Così intanto abbiamo ripassato tutti un pochettino di letteratura francese. Il MOOC aveva come obiettivo quello di sviluppare abilità relativa all'interfaccia Linux con la linea di comando e bash scripting. Una cosa molto tecnologica, molto da nerd, ma che però se ti vuoi iscrivere a una laurea in informatica, prima o poi dovresti studiare. Però i nerd esistono anche nelle scuole. Noi l'avevamo pensato come un'offerta opzionale di orientamento per le scuole superiori. Volevamo fornire un supporto continuo agli studenti. Abbiamo utilizzato una metodologia didattica particolare per l'informatica che si chiama Extreme Apprenticeship. Non c'è spazio per parlarne. Abbiamo però pensato di strutturare questo MOOC proprio perché era una roba da nerd attraverso cinque livelli di difficoltà crescenti. Infatti noi davamo cinque badge e secondo noi chi si era prefisso all'obiettivo di prendere un badge poteva anche fermarsi dopo il primo livello. Chi li voleva tutti è andato avanti. Il nostro obiettivo era di utilizzare tecniche di gamification e sostanzialmente ne abbiamo utilizzate quattro. Visto che il tempo è limitato, visto che qui c'è anche qualcuno probabilmente della comunità Moodle, vi dico subito che questa, essendo la presentazione tecnologica, la cosa interessante è quella che dico per ultimo. La prima cosa è stata costruire dei video che fossero dei videofumetti. Quindi non la lezione registrata con le slide powerpoint. Videofumetti anche perché, come vi dirò nell'altra presentazione domani, utilizzavamo le tre lingue che si usano all'Università di Borsano, quindi c'erano dei video in inglese, dei video in tedesco e dei video in italiano. E fra i partecipanti, come vi dirò domani, c'erano persone non di madrelingua italiana, che quindi erano ben contenti di avere questi video. Un videofumetto è più accattivante del semplice testo. Ed essendo fumetto, riesce a migliorare le conoscenze linguistiche di ascolto e scritte, perché anche chi non ha un livello eccelso nella lingua in cui il video è stato fatto, vedendo il testo scritto e udendolo contemporaneamente, è molto meglio della sottotitolazione, secondo noi. Se non l'altro è un po' più gamificato, come dicevamo in questa presentazione. Altra cosa che ci era piaciuto molto, concludere tutti i video con un tormentone. Cioè, la voce narrante, l'avatar fumettistico, che in realtà è uno di noi, lì vedete ritratto il mio collega Conrad Hofer, indovinate in che lingua ha parlato, finivamo tutti salutando e dicendo, happy coding! La barra di progressione è uno strumento di Moodle molto conosciuto. È un plugin che dà un report immediato sullo stato di avanzamento, la visione che vedete dalla parte di qua dovrebbe essere quella dello studente. La visione dalla parte di là dello schermo è la visione del docente, che così ha un'immagine bella chiara di chi ha risolto quali esercizi. Davamo dei badge, ne davamo fino a cinque. Secondo noi prenderne uno era già meritevole di un badge, e prenderne due significa saperne un po' di più, prenderne tre, quattro, le abbiamo identificate in livelli di abilità, sostanzialmente. E rappresentano una milestone che può essere uno stimolo per chi va veloce, ma può essere anche veramente un traguardo. Abbiamo avuto un pensionato che si è fermato al livello tre, e credo che stia ancora parlandone con gli amici al bar. Classifica e report, invece, è la cosa un po' nuova che abbiamo fatto. Abbiamo pensato a una metafora che è quella del Giro d'Italia, cioè un mucco come un Giro d'Italia, con 30 tappe, nel caso particolare, e per noi erano 30 tappe a cronometro, cioè si gareggiava innanzitutto con se stessi, si doveva risolvere l'esercizio prima possibile. Non solo, ma ogni esercizio era classificato in facile o difficile, a seconda di quanto andava approfondito all'argomento dell'esercizio stesso. Questo sulla base del fatto che, usando lo stesso set di esercizi, o comunque esercizi analoghi, anche nei corsi universitari, dai learning analytics dei corsi universitari, sapevamo quali erano gli esercizi in cui era più probabile che lo studente incontrasse difficoltà. Quindi, oltre alla maglia rosa, davamo anche la maglia azzurra e la maglia rossa, esattamente come al Giro d'Italia, i velocisti e gli scalatori. Quindi c'erano i più bravi degli esercizi facili, i più bravi degli esercizi difficili, non necessariamente le stesse persone. Abbiamo cercato su tutti i plug-in di Moodle se ci fosse e non c'era, e allora ce lo siamo fatti noi. In realtà non l'abbiamo fatto come plug-in, perché i tempi erano molto stringenti, però siamo più che disponibili, se c'è qualcuno dalla comunità Moodle che vuole tutto quanto e lo vuole trasformare in un plug-in perché gli piace l'idea, magari rendendo configurabile un pochettino che non sia proprio il Giro d'Italia, magari Tour de France se lo volete mettere in Francia, o Decathlon, non lo so, scegliete voi, una competizione che si sviluppa attraverso molte tappe in cui ciascuna ha una classifica separata. Quello che ci è costato un po' di fatica è trovare il modo giusto di fare questa classifica depurato dal fatto che gli esercizi venivano corretti dai tutor, me compresa, e quindi c'era un tempo di correzione che non era sempre uguale per tutti. Ogni tanto qualcuno andava a dormire di noi e correggeva otto ore dopo che l'esercizio era stato sottomesso. Quindi noi dovevamo stare attenti che queste otto ore di sonno del tutor non impattassero negativamente rispetto a chi aveva consegnato mentre il tutor era sveglio. Quindi abbiamo dovuto scegliere una formuletta e una serie di query che rappresentassero quella che secondo noi era una classifica fair. Questa è la visione della maglia rosa dal punto di vista di un utente. abbiamo deciso di non far vedere i nomi di chi ti precede, di chi ti segue. Cioè in un certo senso sai in che posizione sei, quanto ci hai messo, quanto c'ha quello prima di te, però non sai chi è. Quindi in qualche maniera non riesci a interagire direttamente con questa persona per lasciare anche l'aspetto soprattutto di competizione verso se stessi e quindi di automiglioramento. Ci siamo accorti però che chi stava nelle prime 15-20 posizioni combatteva per scavalcare qualcuno. Ci siamo accorti soprattutto negli ultimi giorni che c'era chi consegnava alle 6 del mattino perché sapeva che noi più o meno fra le 8 e le 9 prendevamo servizio e quindi iniziavamo a correggere. Piuttosto che consegnare alle 10 di sera che noi fino a mezzanotte svegli magari non eravamo. Questa è una visione che poteva vedere anche allo studente, quindi poteva vedere in che posizione si trovava relativamente a ciascun esercizio. Questa lo vedrete meglio nella versione stampata del paper, che aver fatto terzo in un esercizio non voleva dire fare terzo in tutti gli altri. Ecco, magari nell'esercizio successivo si era venticinquesimi. E poi c'era un grafico dei tempi dedicati per fare ciascuna soluzione. Chiaramente lì dentro c'erano anche le ore notturne, quindi questo grafico dei tempi ha un significato se una persona sa effettivamente in che giorni e in che orari ha lavorato. L'esito finale del MOOC è stato ottimo. A Talent Italy, cioè nei tempi dati da Talent Italy hanno concluso 21. Poi siamo passati a una modalità di tutoring a bassa priorità e hanno concluso altri otto. Quindi 29 su, non so come li volete contare, 88 che avevano espresso interesse a farlo, 78 che sono andati almeno una volta online, 58 hanno fatto almeno un esercizio, 21 hanno concluso, in realtà 28 con tempi supplementari, anche questo metafora sportiva. A noi sembra un ottimo risultato. Abbiamo distribuito questionari di soddisfazione, non tutti l'hanno compilato, però 38, quindi più di quelli che hanno concluso, avevamo detto abbandona quando hai il badge che ti interessa. E tanti hanno abbandonato il badge 2, il badge 3, il badge 4 e hanno compilato il questionario. Hai raggiunto gli obiettivi prefissati nella scala da 1 a 5, il 42% ha detto 4, il 34% ha detto 5. Direi che è andato bene, cioè questo meccanismo dei badge intermedi è stato recepito bene, ha consentito a tutti di combattere ad armi pari su quelle che erano le loro aspettative, la piattaforma l'hai trovata usabile, ma qui le opinioni sono un po' più diffuse, 28% 3, 36% 4, 26% 5. Non sappiamo se sono voti che comprendono solo Moodle, anche la gamificazione, comunque la storia che vi posso raccontare è questa qui. Io avrei finito e sono qua fino a domani. Grazie Gabriella, allora passiamo alla seconda presentazione.